signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale cominciamo ad andare a chiudere l'argomento railroad oramai abbiamo visto che cos'è il railroad abbiamo visto perché non bisogna partire dal presupposto che sia sempre qualcosa di negativo io e il mio party abbiamo potuto dare anche prova delle nostre alte capacità di recitazione non rimane altro da fare che andare a parlare di come fare a realizzare un railroad per bene senza incorrere in quello che abbiamo definito il binario spezzato quando ho visto tutto quello che avevo scritto per questo video ho capito che non sarei mai riuscito a farlo in un video solo a meno di non farlo durare 40 minuti quindi vi avviso già eccezionalmente per questa volta avremo due volte di file in due settimane di fila un appuntamento con l'arte del masteraggio perché questo video come avete visto al titolo sarà diviso in due parti non perdiamo quindi altro tempo e andiamo a vedere come creare un railroad sostenibile cominciamo dall'ovvio la prima cosa che vi serve per creare un railroad sostenibile è un sistema di gioco adatto e la collaborazione da parte del vostro party potrebbe sembrare scontato ma molti giochi sono concepiti per appoggiare filosofie di gioco diametralmente opposte normalmente si tratta di giochi new school e non old school quindi sull'old school andate quasi sempre sul sicuro ma non è detto in linea di massima assicuratevi sempre che il sistema che state usando sia concepito per essere usato nel metodo in cui lo state usando che si tratterebbe il rodomeno inoltre durante la sessione 0 avvisate sempre i giocatori che ci sarà un binario narrativo e che quindi alcuni eventi saranno meno manipolabili o non manipolabili da parte loro in alcuni casi la narrazione verrà spinta verso un tipo di riscontro specifico probabilmente la parte dei giocatori lo dà già per scontato ma sempre meglio essere espliciti su queste cose per evitare poi di finire in situazioni che portino a litigare e quindi perdere tempo poi durante la campagna vera e propria una volta chiariti questi due punti fondamentali dovete organizzarvi per fare in modo che le situazioni previste nel vostro railroad non finiscano poi per scoppiarvi in faccia questa settimana cominciamo andando a parlare delle situazioni con cui potete indirizzare la quest usando la fisica del vostro mondo diciamo lo chiameremmo il binario fisico il metodo più facile che anche poi il più classico è quello di utilizzare la stessa fisica del mondo per favorire ostacolare le azioni dei giocatori come abbiamo detto nell'altro video il metodo per antonomasia e il dungeon ma in realtà qualsiasi altra struttura o elemento del territorio definito portano a indirizzare i giocatori verso un determinato tipo di comportamento se la vostra quest si svolge all'interno di un'astronave i giocatori potranno andare ovunque vogliono dentro l'astronave ma comunque dovranno farlo passando per i corridoi entrando dai portelli che sono previsti a planimetria dell'astronave l'equipaggio tende ad arrabbiarsi quando sfondi le paratie facendo saltare i condotti non avranno neanche una reale ragione per andare all'esterno dell'astronave e anche nel caso dovessero farlo è implicito che non ci sarà assolutamente nulla probabilmente per miliardi di chilometri all'esterno dell'astronave in un caso del genere nonostante le possibilità di scelte dei giocatori siano tecnicamente limitate non ci sarà da parte loro nessuna percezione di queste limitazioni sembrerà perfettamente logico che debbano passare da dove devono passare e che debbano comportarsi come debbano comportarsi per quanto riguarda le limitazioni fisiche molto spesso è la stessa logica del mondo al venire in aiuto se i giocatori devono entrare nel dungeon dei coboldi e devono affrontare le guardie è normale che le guardie siano disposte davanti all'ingresso del dungeon e che per entrare nel dungeon bisogna passare attraverso l'ingresso nella pratica i giocatori sono costretti ad affrontare il primo sconto della prima stanza nell'ordine che voi avete deciso questo però non sembrerà da parte loro una forzatura è perfettamente logico che l'ordine delle azioni sia quello in alcuni casi potrebbe anche portare a un effetto di gratificazione da parte dei giocatori i giocatori si sentiranno premiati da alcuni punti di railroad all'interno della storia ad esempio i giocatori potrebbero essere gratificati di essere riusciti a trovare l'unico valico attraversabile che gli permette di superare le montagne che tagliano a metà la mappa allo stesso modo i giocatori potrebbero essere contenti di aver trovato la mappa del tesoro che gli serve per trovare il tesoro o di essere riusciti a trovare l'unico percorso possibile per uscire dal labirinto per attraversare la giungla casi del genere vengono spesso visti come delle ricompense per aver esplorato la mappa in maniera intelligente e aver fatto scelte logiche più che delle forzature del master anche perché nella fattispecie molto spesso è così i giocatori che riescono a muoversi nella maniera più efficiente possibile molto spesso non si accorgono neanche che le loro azioni avrebbero dovuto essere pilotate se non l'avessero fatto l'altra grande limitazione legata alla fisica del gioco è la presenza o la stenza di determinati oggetti o determinati equipaggiamenti se i giocatori hanno bisogno di un determinato oggetto per portare a termine la missione ovviamente dovranno andare a procurarsi quell'oggetto prima di cominciare a intraprendere la missione se per uccidere il signore dei lich l'unico modo è trafiggerlo con la spada dell'uccisione a bizzeffe e la spada dell'uccisione a bizzeffe è nascosta all'interno del dungeon della morte assoluta l'unica soluzione logica sarà prima completare il dungeon della morte assoluta per recuperare la spada e poi andare a sconfiggere il signore dei lich allo stesso modo i personaggi avranno bisogno della chiave per aprire la porta della mappa per trovare l'ingresso e su scala più ampia potrebbero dover completare intere missioni solo per poter accedere alle missioni successive il classico è abusato troppo del dovete recuperare i cinque frammenti dell'oggetto magico da poi poter riunire per sconfiggere il signore del male ci sono poi anche limitazioni più spicce i personaggi avranno bisogno delle munizioni per la loro arma preferita delle pergamene da ricopiare sul loro libro degli incantesimi di tutti i consumabili che gli servono prima di poter intraprendere un viaggio non sembrerà mai una limitazione dire ai giocatori che per ricaricare l'arma devono in qualche modo procurarsi i proiettili potete quindi stare sicuri che prima di intraprendere qualunque missione i giocatori cercheranno di assicurarsi tutte le risorse di cui hanno bisogno e cercheranno di farlo nella maniera più logica e lineare che possono ovviamente dovete sempre fare in modo che le limitazioni che avete imposto si adattino ai personaggi dei giocatori e non aspettarvi che siano i personaggi ad adattarsi alle vostre limitazioni detta in parole povere i personaggi e i loro giocatori reagiranno bene al railroad se questo non appare come qualcosa di forzato ma non potete aspettarvi che i giocatori reagiscono bene a delle pure semplici imposizioni i giocatori non percorreranno tutte le stanze del dungeon se possono semplicemente volarci sopra e sfondare il tetto e l'ultima stanza in linea di massima ogni binario fisico che imponete deve essere pensato per adattarsi alle effettive capacità del party ricordatevi che i binari servono per indirizzare la storia non per ostacolare i giocatori di questo poi parleremo più approfonditamente alla fine del prossimo video non voglio parlarne adesso però è un concetto che deve cominciare a essere chiaro diciamo che per questo video è tutto settimana prossima come ho detto ci sarà di nuovo l'arte del masteraggio con la seconda parte fino ad allora intanto fatemi sapere nei commenti quali sono gli ostacoli che voi utilizzate come railroad fisico quali sono state le volte che il railroad fisico vi è fallito o che il vostro master l'ha organizzato così male che gli è esploso in faccia come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate il tasto della campanella se non volete perdervi i prossimi video io sono il master CAE noi ci vediamo nel prossimo video